Ciao sono Denis Giulia, sono il bartender del Portegno Proibido e oggi vi presento un classico paloma a nostro stile. Ok, inseriamo prima un bel jugo di ghiaccio grosso, dopo mettiamo 10 ml di zumo di lime, aggiungiamo il zumo fresco di pompelmo rossa 20 ml e aggiungiamo il tequila Patron Silver 45 ml. E per finire aggiungiamo un top bag di soda al pompelmo rossa della pia. Grazie per la visione!